Dal Vangelo secondo Matteo Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciano dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoge, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate Padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida. Il Cristo Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato.